Ben ritrovati amici di Pokerstar News con la nostra consueta pillola settimanale dedicata al basket. Questa settimana ci soffermiamo su Giordano Bortolani, il classe 2000 nato a Sant'Agata di Militello e prodotto delle giovanile dell'Olimpia Milano. Quest'anno tornato a vestire la casacca bianco-rossa sta dimostrando finalmente di essere un giocatore che può valere quel posto. Sta supportando Milano-Messina in questo periodo di assenza di stelle come Milotic, Schiltz e Lo e sta trascinando quello che è il gruppo italiano che in questo periodo è nevralgico nell'andamento della stagione dell'Olimpia. 12 punti ieri nel successo decisivo per la qualificazione delle famiglie di Coppa Italia in quel di Trento, ne aveva fatti 12 nella partita precedente di Eurolega contro il Bayern, 11 in quella ancora prima con l'Olimpia. Su un periodo, diciamo una decina di giorni, in cui Giordano Bortolani forse si è tolto quel peso anche addosso di essere un po' sempre stato sottostimato. Probabilmente anche dallo stesso Messina nel senso che faceva fatica a investirci. Adesso invece gli sta dando fiducia, chiaramente si prende sempre dei bei cazzietoni quando sbaglia, perché comunque è sempre un giovane e così va fatto. Però Bortolani veramente è un talento del nostro basket che va protetto e va spinto a fare ancora meglio. Questa è la prima settimanale, noi ci risentiamo prestissimo.